Ma perchè non gli servono le ruote? Perchè stai in piedi papà? Papà perchè stai in piedi? Perchè ci sono le onde Guarda! Oh! La volata una onda! Oh! 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 Papà Lello non si vede più è vero? Papà perchè va così lontano? Papà? Papà perchè va così lontano? Sta provando la moto Perchè va così lontano? Ma perchè per provare la moto deve andare così lontano papà? Perchè ci arriva ci sono le persone posso? Certo? Perchè ci arriva? Ho un po' E' O perchè va così voloso quella moto? perchè va così veloce papà? è una moto d'acqua scorso pur acqua può fare un tiro curvo? guarda che sta venendo verso di voi pur va guarda che una delle delle onde si è arrivata guarda che si è arrivata guarda che un'altra dove si è arrivata guarda che hanno arrivato guarda che ragazzi guarda che si è arrivato guarda che è arrivato guarda che stanno passando Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché andava troppo veloce? Eh sì. Anche Lelo è cascato in acqua? Papà, anche Lelo è cascato in acqua? No? Io te li vai ai manudi? Sì.